Grazie a tutti. Anche nella serata di domani, marchigiane divise su più giorni, ieri è toccato a San Benedetto e Fermana, i risultati dunque di questa prima giornata con la vittoria della Fermana per 2-0 contro la Virtus Vecamp Verona, Gubbio Ravenna 1-1, la vittoria del Renate a San Benedetto 2-0, Monza-Feral Pissalò 1-0, Vicenza-Gianna-Erminio 0-0 su tiro al Teramo. Il posticipo di questa sera, i Molesi Albino Lefe, Pordenone Fano, Tristina Vispesaro invece domani in campo e poi rinviata il match tra Ternana e Rimini per le vicissitudini legate al Tar del Lazio che ha bloccato dunque per ora gli impegni delle cinque società ripescabili o con ricorsi pendenti in Serie B. Esordio shock allora per la Samb, partiamo proprio da qui, ci rivediamo la sconfitta in casa a Riviera delle Palme contro il Renate. La Samb di Mister Maggi perde l'esordio tra le mura amiche contro il Renate. I Lombardi chiudono la pratica nel primo tempo grazie al doppio vantaggio e nella ripresa amministrano il risultato. Rosso-Blu che creano ma non riescono a capitalizzare gli undici tiri fatti, solo due però nello specchio della porta. Maggi si presenta con il classico 4-3-3, tra i pali va Sala nel giorno del suo compleanno, centrali Micelle e Zaffagnini sugli esterni, capitana Rapisarda e Cecchini. Mediana Bove in veste di plemeca raffiancato da Signori e Gelonese, davanti il tridente stanco, terminale offensivo, Russotto e Calderini sugli esterni. Pronti via e il Renate al secondo minuto si fa subito pericoloso con Piscopo ma il suo tiro finisce fuori di poco. Al settimo si fa vedere la Samb, Calderini dalla destra mette in area per Russotto ma il tiro non inquadra la porta. Al tredicesimo Stanco lavora un buon pallone in area e serve Gelonese, il tiro del centrocampista Rosso-Blu finisce a lato. Al ventesimo Russotto ci prova senza fortuna su punizione mentre subito dopo su corner. Micelli colpisce di testa con la palla che finisce tra le braccia del portiere. Al ventiseiesimo ci prova Calderini ma la palla viene deviata dalla difesa in calcio d'angolo. La doccia fredda arriva al minuto 29 quando gli ospiti proprio nel momento migliore di Rosso-Blu si portano in vantaggio. Simonetti si restreggia sulla destra e mette un cross per Gomez che di testa batte Sala da due passi. Al trentasettesimo ancora Renate in avanti con un'incursione centrale di Piscopo che calcia dal limite e palla fuori. Al quarantunesimo invece si rivede la Samb, cross di Calderini per la testa di Signori che mette fuori. Prima del riposo gli ospiti raddoppiano con Piscopo che fa partire un tiro da fuori aria che si insacca alle spalle di Sala. A sorpresa Renate è avanti 2-0. Nella ripresa prima della solita girandola di sostituzioni al cinquantatresimo ci prova Stanco ma il suo colpo di testa esce di poco. Maggi mette nella mischia anche di Massimo in cerca di vivacità sul fronte offensivo e al sessantasettesimo una sponda di stanco trova lo sotto ma il suo tiro esce di poco. Gli ospiti amministrano senza grossi patemi fino al triplice fischio e portano a casa tre punti sperati alla vigilia. Per il rosso-blu uno stop da lasciarsi subito alle spalle. Esordio invece ottimo per la Fermana, vincente 2-0 in casa contro la Virtus Vecomp Verona. Tutta la pratica si sistema nel primo tempo. Esordio in campionato in grande stile per la Fermana che davanti al pubblico del Recchioni vince 2-0 contro la matricola. Virtus Vecomp Verona chiudendo il risultato e la pratica nel primo tempo. Una grande prova di carattere quella di giallo-blu che sono entrati in campo da subito con determinazione e la giusta dose di agonismo neutralizzando piano piano i tentativi degli avversari che non l'hanno potuto davanti alla furia giallo-blu. La prima occasione degli ospiti al settimo. Grandolfo lavora una pala in aria per Gerbach e quest'ultimo è anticipato da Jotti che spazza. La risposta della Fermana all'undicesimo sull'angolo di Giandonato però non arriva a nessuno e l'azione sfuma. Fermana vicinissima al vantaggio al ventisettesimo quando Jotti serve un assist per Clemente al limite dell'aria che si vede ribattere la sfera sulla ribattuta e pronto lupo di attiro ma Sibi trattiene. Alla mezz'ora sullo sviluppo di una punizione Torre di Cognini sottoporta per Urbinati che ci prova con una sforbiciata ma la sfera termina di poco sopra la traversa. Al trentaseiesimo il gol del vantaggio. Sullo sviluppo di un angolo scrosta è pronto la ribattuta di Sibi e segna l'un a zero portando in avanti i suoi. Passano solo quattro minuti e al quarantesimo lupo li raddoppia. Su Torre di Cognini Reartù insacca la destra del portiere 2 a 0. Il colpo è micidiale per gli ospiti. Sul finale ci provano con Gerbic che ha tu per tu con Ginestra calcia fuori chiudendo così il primo tempo. Nella ripresa la Fermana ha subito un'occasione al quinto. Lupo li serve Cognini che fa tutto bene in aria e va al tiro ma Sibi si salva in due tempi. Punizione di Giandonato dalla tre quarti al nono. Sibi in salto trattiene. Ginestra attento e ribatte con i pugni al decimo. La punizione è defilata a sinistra per gli ospiti con Gerbic che cerca subito la porta. Al quarantaduesimo solo sviluppo di un angolo in aria risponde comotto ma Sibi trattiene. Giandonato al penultimo da fuori aria spedisce la sfera sopra la traversa. Quindi a tempo praticamente scaduto. Zerbo recupera palla e salta un avversario per poi andare al tiro che finisce sopra la traversa. Finisce in festa per la Fermana che festeggia l'esordio davanti al proprio pubblico. Questo per quanto riguarda la Serie C in attesa di Fano e Vispesaro. Scendiamo in Serie D ieri prima giornata nella Girone F. I risultati la vittoria del Giuranova in casa dell'Agnonese per 1-0. Ad Avezzano la vittoria del Cesena 2-1. A Castelfidardo la vittoria del San Nicolò 3-1. Forlì-Isernia 3-0. Francavilla-Pinetto 3-1. Matelica-Vastese 4-2. Recanatese-Iesina 1-1. Samorese-Montegiorgio 1-1. San Giustese-Campobasso 4-2. e Sant'Arcangelo-Savignonese 2-1. Classifica è molto facile dopo questa prima giornata. Forlì-Matelica-Sangiustese-Francavilla-San Nicolò-Cesena-Sant'Arcangelo-Giulianova con 3 punti. Iesina-Recanatese-Samorese-Montegiorgio con 1 punto. Savignanese-Agnonese-Vastese-Pinetto-Castelfidardo-Isernia con 0. Penalizzazioni di 2 punti per il Campobasso e di 3 per l'Avezzano. Partite bene le marchigiane in particolare il Matelica. Partito bene anche la San Giustese 4-2 in casa al Campobasso. Le parole nel dopo partita di mister Assenigalliesi. Al di là della larga vittoria che può essere frutto comunque delle casualità quello che mi ha convinto è l'atteggiamento. Soprattutto e in particolare nel secondo tempo quando abbiamo preso il rigore abbiamo gestito la partita in un modo inaspettato. La squadra matura, coesa, con senso di appartenenza, senza concedere più nulla. Il gol che abbiamo preso è stato frutto della casualità ma abbiamo sempre riproposto e giocato con grande solidità. Il primo tempo onestamente è stato qualcosa anche di spettacolare a mio parere perché tantissime conclusioni, tante situazioni che abbiamo creato contro un avversario che comunque poteva pareggiare, poteva metterci in difficoltà. Sono partite aperte che possono andare in un senso o in un altro. la cosa positiva è l'atteggiamento, non tanto il risultato. Sono meno tre che dobbiamo fare per raggiungere la salvezza. Avete visto il livello, ne vedremo altre purtroppo. Nell'alco di cinque partite incontriamo le corrazzate. Avremo un'idea chiara di quanto ci sarà da soffrire e di quanto poi questa domanda risulterà inutile perché noi abbiamo solo un unico obiettivo. Queste le parole dunque di mister Senigalliesi e dal campionato di Serie D al campionato di eccellenza seconda giornata nel massimo campionato di calcio della regione sabato in anticipo il Camerano aveva battuto la Biagionà 0-3 a 1 Atletico Alma Fossombrone 0-0 Atletico Gallo Pergolesi 1-1 Marina Grottamare 1-0 Montefano la vittoria del Fabriano Cerreto per 2-1 la vittoria del Zasso Ferrato Genga in casa del Monticelli anche in questo caso 2-1 Porto Sant'Elpidio batte Porto Recanati 1-0 San Marco Lorese Urbani a 1-1 Tolentino Porto D'Ascoli 1-0 La classifica a Ponteggio Pieno Tolentino Fabriano Cerreto Sasso Ferrato Genga e Marina con 6 punti Pergolesi San Marco Lorese Porto Sant'Elpidio Urbani a con 4 Porto Recanati e Camerano con 3 Atletico Gallo Fossombrone Biagionazzaro e Atletico Alma con un punto Monticelli Porto D'Ascoli Montefano e Grottamare con 0 Poi per gli appuntamenti invece per questa sera su ATV Marche Prima puntata della nuova stagione di lunedì nel pallone Appuntamento alle 21.20 su ATV Marche Canale 12 In primo piano ovviamente la Serie C con la sconfitta della Samba e la vittoria della Fermana ma anche la vigilia di Fano e Vispesaro Poi la Serie D con un focus sulla prima domenica di campionato che si è giocata nel Giron F Terza parte come da tradizione dedicata all'Anconitana che si avvicina allo start del torneo di promozione sulle ali dell'entusiasmo dopo la presentazione di sabato sera in Piazza Roma durante la Notte Bianca ad Ancona Ospiti in studio il mister anconetano Sauro Trillini responsabile della comunicazione dell'Anconitana Giuseppe Giannini Al telefono contributi invece da parte del direttore sportivo della Vispesaro Claudio Crespini e del mister del Mondolfo Francesco Baldarelli che ci parlerà in maniera più diffusa anche del girone A di promozione Appuntamento questa sera alle 21.20 su ATV Marche Canale 12 ovviamente con lunedì nel pallone Noi siamo in chiusura Vi ricordiamo che come di consueto tutte le news le potete trovare pubblicate anche sul nostro sito www.etvmarche.it E' tutto per questa edizione Grazie dell'attenzione Buona serata Arrivederci Grazie